oggi la distanza si fa veramente interessante stiamo parlando di 50 metri sempre ovviamente senza ottica e senza appoggio quello in fondo è il paione e quella che vedete a terra e la linea di tiro di 50 metri proviamo subito ovviamente da qui non vedo niente andiamo a vedere in tempo reale dove andate a finire la freccia come vedete sono caduti anche i due propri lati di polistrolo non basta ovviamente un materasso per frenare una freccia freccia da 14 pollici abbastanza corta e abbastanza leggera 300 grani centro stupendo centro da 50 metri senza ottica e senza appoggio centro centro perfetto non so se si vede centro perfetto da 50 metri questa è una bella soddisfazione davvero ripeto senza ottica senza appoggio solo tacche di mira e mirino stupendo centro da 50 metri meglio di così penso con queste modalità di tiro non si può andare davvero un ottimo tiro complimenti ovviamente anche all'arma alla precisione intrinseca che ha la mia jaguar comunque arma di primo prezzo davvero un ottimo tiro ripeto centro da 50 metri mezzo campo di calcio 64 passi